Lilli Di Norfo, l'impegno dei giovani di Forza Italia in questa campagna elettorale è stato importante e lo sarà sicuramente per l'esito finale? Beh, assolutamente sì, i giovani di Forza Italia anche in questa campagna elettorale sono impegnati al 100% e i giovani di Forza Italia chiedono un voto compatto, corale e convinto a Forza Italia. Perché un partito, il voto dato a Forza Italia non è l'unica alternativa ma è l'unico voto utile per risollevare le sorti di questa terra contro un voto dato ad un PD, quindi ad una sinistra che ha ceduto a logiche incomprensibili. I disastri del governo Crocetta li conosciamo tutti, purtroppo li abbiamo ben conosciuti, ci ha lasciati in un immobilismo burocratico ed amministrativo senza alcun precedente. Ebbene, è un voto anche contro un Movimento 5 Stelle, un populismo vuoto al Movimento 5 Stelle che all'opposizione ha potuto celare qualche deficit qualitativo ma l'amministrazione dei comuni non ha saputo nascondersi. Vediamo Favara, Portembedo, Bageria, Roma. Ebbene, un voto a Forza Italia è anche un voto per superare l'apatia e l'indifferenza del non voto.